Ti senti un leader? Allora stiamo cercando te. Per il reality del reality, top leader. 25 mila euro il premio finale, ma tutti sarete vincitori. Porterete dentro un'esperienza unica e una grande crescita personale. A regolamentare l'esito della gara, Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. La formazione sarà curata direttamente da Gianfranco Diomedi, presidente di SDS Accademia. Cosa